devo parlare con nick hai sentito asic non risponde sono sicuro che hai un altro numero non vorrei gli fosse successo qualcosa shakira sono preoccupato per lui lo capisci vero non puoi continuare a ignorare chi sono e che cosa stanno per fare potrebbero fare del male a nick ea tuo fratello chi sei tu qualcuno di cui ti devi fidare adesso asic ok hanno smesso di sussurrare che c'è sono stanca voglio andare a casa non puoi trattenermi non se ne parla non puoi fermarmi spero che il tuo amico sia puntuale promettimi che non accadrà niente promettimelo te lo prometto 3 1 0 6 6 0 1 3 0 asic il vero nome di nick caderi è michael rivki puoi trovarlo al 3 1 0 6 6 6 0 1 3 0 avevo già il suo numero e non mi interessa il suo vero nome ok sto cercando quel numero rivkin ci ha preso tutti in giro è un cellulare voglio le coordinate gps subito nick caderi è il nome usato da michael rivki ha sedotto shakira per conoscere il suo fratello raffi poi si è infiltrato nella cellula dormiente quindi cadavere indicato da ripkin come caderi è quello di raffi zahid fratello di shakira ho la posizione di rivkin è quasi arrivato da loro bene avvisa la squadra più vicina no non c'è tempo sam entra in azione ok messi operativi vai 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 lo voglio vivo libero tutto libero sopravviverai finito rivkin questo sei gips ritornatene a casa subito non mi piace lasciare un lavoro in sospeso hai finito ho finito io per te allora vado Washington e Tel Aviv faranno finta di niente io invece no combattiamo la stessa guerra solo che la nostra è cominciata ad Auschwitz con oltre 6 milioni di persone tutte importanti lo sono anche per me Ziva David lavora per me salone 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 salone